Benvenuti su RealNapoliFootball Benvenuti su RealNapoliFootball NapoliRossCounty Bene così NapoliRossCounty Questa partita valida per la Valida per la Permanenza in divisione 4 Valida per la salvezza perché Come sapete Come ho già detto più volte Purtroppo Ci siamo giocati la possibilità di essere promossi Intanto la squadra titolare c'è Va bene così avanti Napoli Si parte subito Tra l'altro ho dei confetti che adesso mi mangio Con la faccia vostra Eccoci qua Voilà Flambe Intanto si parte anche subito Incredibile Si parte subito Si parte subito di meno Si parte subito di meno Se ne ha la botta che prova a chiudere C'è Ovolanda ma Rakamani riesce a Ripartire Attenzione Anghista Belberg di Anghista Se ne va Anghista Anghista prova a lanciare lungo verso qui C'è qua la schede ma Viene anticipato Quara Mario Lui Allarga Mario Lui dentro il Quara Lo si è Zedischi niente da fare La palla arriva Rosimena Che vede arrivare Giannino Di Lorenzo Che prova a darla Politano Niente da fare Lobotka Scende anche Zedischi per dare una mano Lobo su Bellingham Attenzione Lobo Bravissimo Lobo Su Bellingham Palla poi per arrivare a Zedischi Che allarga per Politano Politano Vede Rosimena Anticipato da Leno Rilancio di Leno Attenzione Non riesce a contrastare Mario Lui Ossigar deve Contrastare Corona Arriva Di Lorenzo A svettare E risolve il problema E Zedischi Cambia Gioco alla grande Verso Cavara Schelia Che si ferma Vede arrivare di gran carriera Anghista Che prova a ridarla Cavara Schelia Bella giocata qui Cavara si ferma Si gira Cavara Ecco Cavara Tiro a giro Rimpallato dal difensore Arriva Giannino Di Lorenzo Fermato da D'Abi D'Abi colpisce Giannino Non solo quando c'è da scattare verso la rete Ma anche in interdizione Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore Dopo Politano Politano Attenzione Break di Politano Nero Se la cava qui Lost Country Incredibile Zedischi Così man Molta confusione qui ragazzi Potevamo sfruttare molto meglio queste occasioni Mario 2 Rimini di Mario 2 Guarda qua la schela Che appoggia per Zedischi Che vede arrivare Anghista Che entra Crossi in mezzo Leno Leno Mario 2 Bell'anticio di Mario 2 Paraschela Zedischi Osimene Si gira Va dentro da Politano Fuorigioco Fuorigioco di Politano Ci sta Ci so Leno Ostri Garancino L'attaccante Attenzione Di Di Lorenzo Su Alba Di Robo Mamma mia Di Sto Mangiando Scusate Meretti Non c'è lungo Attenzione Siosi Man Che riesce a spizzare Per Quara Schela Quara Si ferma Quara Non c'è nessuno Che parte Quara Schela Dall'altro Lato Fa una giocata Pazzesca Verso Politano 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 In giro La parata E poi Autogol Incredibile Goal Assinato a Politano Ma Autogol Pazzesco Non ce la fanno Rivedere Sto Prontamente Autogol Anche sta Ricopriamo Super Palla Quara Schela Si gira O si manna Palla Per Politano Politano Vedi Dentro Ah Lo devo dare A dosi Politano Ha cercato Zilischio Neymar Angissà Su Neymar Attenzione Riesce di andare Da Corona Neymar Ostigar Si gira E se ne va Addirittura E poi va Da qui C'è Quara Schela Zilischi Dentro Per Angissà Riesce a trovare Quara Attenzione Quara Schela La parata Angissà Con i giovani Angissà Chi ci faccio Fuori gioco Di Angissà Peccato Raccomani Anticipa tutti Zilischi Palla Per Angissà Dentro Per Ossiman Che Scattato troppo Voleva andare un po' più incontro Politano Attenzione Zilischi Dentro per Coara Che si va a nascondere Coara Schela Attenzione Zilischi Prova a ripiegare Su Cancelo Zilischi Su Cancelo Zilischi Su Cancelo Zilischi Su Cancelo Niente da fare Ostigar Lombotto Attenzione Neymar La parata Di Meretti Che si scrive Al MES Si scrive A MACHE Neymar Calciano Con l'attenzione Angissà Bella palla Attenzione Per Politano Che viene Anticipato E perde palla Cancelo Zilischi Prova a dare una mano Su Giordi Alba Di AB C'è Ostigar Su Di AB Attenzione La palla Raffiner Finisce Politano Che va Angissà Che vede Quaraschelia Che prova A darla subito A Dosimena Palla Che non arriva A Dosimena E poi Mario Rui Bell'anticipo Scende Rui Mario Rui Palla Per Angissà Che non arriva A darla A Quaraschelia Ma Le vanno queste cose Non mi sembra Tanto reale In realtà Però non fa niente Attenzione Bellica Che scende Fin in fondo Zilischi Lo segue Gli ruba Palla Poi Politano Palla per Zilischi Prova ad andare Da Di Lorenzo Ma si era fermato Giannino Di Lorenzo Attenzione Rachmani Su Diabì Palla Ma è fallo Laterale Attenzione Lobo E poi Rachmani Gli dà una mano Zilischi Finisce il primo tempo 1 a 0 Abbastanza meritato Partita Comunque Equilibrata 3 tiri Non è un vantaggio Non è un vantaggio Ci fa stare tranquilli Ragazzi Chiaramente Dobbiamo necessariamente Provare a chiudere La partita Attenzione Politano Che prova il contro Che prova il contro Piede Covara Attenzione Fa scendere Anghissà Scende Anghissà Anghissà Pallaccia di Anghissà Che però adesso fa Un break Recupera Palla Palla Per Scheda Attenzione Fuori gioco Ripolitano Cazzo Di Dio Ma come ci facciamo Mangiare le gullo Come facciamo Come facciamo Mangiarci certi gullo Il lancio lungo Di leno Attenzione Lobo Attica Però Contrastare Nei mare Ci riesce Anghissà Palla Per Lobo Attenzione Palla Poi per Zilischi Che vada Osimene Che si gira Osimene Dentro Per Quara Scheda La palla Non è Acquara Purtroppo Posti Gardec Anghissà Che non riesce A riparare Palla Di A B Attenzione Oland Neymar Non riesce A chiudere Invece Mario 2 Che se ne va Mario 2 Attenzione Zilischi Palla Per Anghissà Proviamo il break Anghissà Vede dentro Osimene Che appoggia Subito Per Politano Che non ci crede E si ferma Si ferma Politano Rilancio Di non so chi Forse Giordi Alba Palla persa Ricopriamo Un fallo Laterale Sono sempre Antipatici Falli laterale Palla Però Finisce bene Ad Anghissà Che poi Va da Politano Politano Crossi In mezzo C'è Zilischi Che non riesce A staccare Di testa Lobot Anticipato Poi Da Bellingham Prova a ripartire Lobo Prova a rincorrerlo Attenzione Lobo 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 Niente da fare Mario Lui Mario Lui Niente Attenzione Bella azione Mario Lui Beh Recupero Palla Palla Per Coraskelia Dribbling Di Capara Fermato Coraskelia Mario Lui Anticipa Corona Recupera Palla Fallo Laterale Per il Ross County Però Attenzione Mario Lui Ancora Bella Partita Di Mario Lui Continua A recuperare Palle Importantissime Coraskelia Errore Ancora Di Coraskelia Che sta Giocando Una partita Terribile Stasera Terribile Attenzione Crossi Mezzo Mamma Mia Caccia D'angolo Quindi Anticipo Pazzesco Del difensore Di Rachmani Continua A attaccare Lo scount Attenzione Ragazzi Neymar Dalla Bandierina Coraskelia Qui Prova A dare Una mano Ed è ancora Calcio D'angolo Ed è ancora Calcio D'angolo Neymar Calcio D'angolo Anghissa La mette Fuori Politano Prova Andarsi In Contropiere Politano Politano Dentro Politano Palla Per Anghissa Che Scende Anghissa 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 Per Politano Palla Troppo Lunga Di Zambo Anghissa Se provare A fare Qualche Cambio Lobot Attenzione Osimene Prova Mette La terra Per Anghissa Che Va Da Politano Entra Politano In Aria Politano In Aria Cross Per Osimene Victor Osimene Mette Il 2 A 0 Ragazzi Il punto Esclamativo Per il momento Sulla Partita Bene Così Vaglio Bella Azione Grande Politano Grandissimo Cross Osimene La appoggia di testa Nel palo opposto 2 a 0 2 a 0 Intanto Entro Oliveira Al posto Di lui Facciamo Entrare Anche Elmas Di rischio Stanchissimo Anche Politano Politano Facciamo Entrare L'Inström Politano E stanco Ci sta E Aio Mettere Gaetano Però Gaetano Gaetano Il posto di 0 Mettiamo Gaetano Il posto di 0 Che 0 E stanco Va bene Così Il resto Tutto ok Abbiamo Natan Non Fire Rackmani Però sta Gionando Bene Io lo Lascerei Io lo Lascerei Assolutamente Sì Quindi Va bene Così Ragazzi Con questo Paio Di sostituzioni L'Inström E Gaetano Chiamo Il consiglio Di Consolidare Questa vittoria E portarci a casa La salvezza Io Per rigiocare Assolutamente Stato di Sene 4 Che non Mi andrebbe Minimamente Di ripartire Dalla Divisione 5 Ci proviamo Si riparte Attenzione L'Inström Non riusciamo A recuperare Palla Attenzione A chissà Anche Anche Sare Palla Anche Bellissima Attenzione Anche Sare Dentro Per Gaetano Palla Per Lindström Che appoggia Di Lorenzo Che arriva Di gran carriera Di Lorenzo Di Lorenzo Di Lorenzo Il cross In mezzo Si Man Che va Vicinissimo Al 3 A 0 Va vicinissimo Al 3 A 0 Si Man Ma prima Di La Si Ma C'ha Riuscito Attenzione Ostigard Prova a svettare Ostigard C'è Holland Qui Giannino Di Lorenzo Ancora su Holland Erroraccio Qui Attenzione Ostigard Deve chiudere Ostigard Di A B Meret Fa un miracolo Pazzesco Miracolo Pazzesco Di Meret Non si è fatto superare La palla termina sul fondo Per quello che sarà il loro Calcio d'angolo Attenzione Anghissà Mamma mia Il loro Anghissà Anghissà contro Anghissà Anghissà contro Anghissà Vince il duello Il loro Ma la palla è fuori Meret Rilancio lungo Si Man Può appoggiare ancora Al nostro Anghissà Che appoggia poi Per Lindstrom Si gira Lindstrom Dreaming di Lindstrom Non riesce ad andare Da Giannino Di Lorenzo Veramente per un nulla Attenzione Rachmani Riesce ad andare Da A B E poi Ostigard Mamma mia Che recupero di Ostigard Palla per Giannino Di Lorenzo Che prova ad andare subito Nanghissà Niente da fare Lindstrom prova a dare una mano Di Lorenzo Rachmani Ostigard Ancora E poi Gaetano Va da Kvara Schelia Dribling di Kvara Schelia Se ne va Kvara Appoggia per Gaetano Che la ridà Kvara Schelia Bella giocata qui Tra i due Attenzione Kvara ancora Ecco Esagera Kvara Schelia Gaetano Prova a rimontare Attenzione Prova a stare Presso a Cansello Non ci riesce Ostigard Però Poi Lobotka Appoggia a Meret Che la ridà Lobo Attenzione Giochiamo stretti Qui E partiamo Palla a terra Con Olivera Palla per Lobotka Che va Danghissà Bel calcio Qui Anghissà Verso Lindstrom Se ne va Lindstrom Sulla fascia Lindstrom Si gira Lindstrom Dentro per Anghissà Che per poco Riesce a penetrare Attenzione Rachmani Dentro per Gaetano Per Kvara Schelia Si gira Kvara Fermato sul più bello Kvara Schelia Attenzione Siamo un po' slegati Qui Palla verso Oland Accorcia Neymar Attenzione Accorcia Neymar Accorcia Neymar Junior Attenzione Gaetano Palla per Rosimène Errore di Osi Errore di Osi Non mi piace Questa cosa Olivera Andiamo lontani Dalla nostra porta Olivera Palla per Kvara Schelia Drimling di Kvara Palla per Gaetano Che prova ad andare D'Anghista Guardiamo un calcio D'angolo Che è vitale È vitale Lobotka Attenzione Lobo Lobo Prova ad andare Da Osi Man Osi Può spizzarla Osi Ci riesce Ma la palla Non arriva Uno dei nostri Gaetano Bravissimo Rachmani L'aria da Gaetano Che l'appoggia Lobotka Che la dà Kvara Schelia Che si gira Kvara 5 minuti di recupero Ma dai 5 minuti di recupero Bellingham Attenzione Palla verso Militao Provano ad uscire Palla al piede Ci riescono Sì che ci riescono Cazzo Olivera Deve chiedere su Corona Olivera è più fresco Di Corona Ci riesce Però è ancora Palla del Ross Country Stiamo soffrendo Stiamo soffrendo Bravissimo Olivera Se ne va Olivera Deve scendere Olivera Palla per Kvara Schelia Che va da Osi Man Che la rita Kvara Schelia Bella giocata qui Che teniamo palla lontana Kvara Schelia Prova il cross E finisce qui ragazzi Finisce qui E questa vittoria Quanto meno Quanto meno Ci permette Di restare In divisione 4 E di ricominciare E provare a giocarci La promozione In divisione 3 Ci vediamo Alla prossima puntata Invece che partire Sembrava Alla prossima puntata Grazie a tutti